ciao a tutti e benvenuti in questo canale sono d'alessandro davide e oggi con questo nuovo video voglio spiegarvi come collegare l'asciugatrice all'impianto di scarico oggi vi propongo una versione aggiornata di un video che avevo già fatto in passato quindi vi spiegherò come collegare l'asciugatrice all'impianto di scarico di casa dove probabilmente c'è già collegata la lavatrice in questo modo bypasseremo la tanica perché l'acqua verrà scaricata direttamente nello scarico a muro così non dovremo mai più scaricare la tanica per iniziare quello che ci occorre è questo kit che troveremo già all'interno delle asciugatrici electrolux per quanto riguarda le altre marche potete acquistare il kit universale compatibile con tutte le asciugatrici direttamente su amazon e vi lascio il link qui in alto in descrizione e nel primo commento e anche a fine video adesso ci troviamo sul retro dell'asciugatrice e con l'aiuto di una pinza sfiliamo questa fascetta e scolleghiamo questo tubetto adesso prendiamo questo raccordo a 90 gradi che trovate nel kit di montaggio che vi ho fatto vedere prima e lo inserite qui dentro al momento questa fascetta non serve più però io la lascio qui perché potrebbe tornare utile in futuro adesso prendiamo la fascetta di nylon che sempre dentro al kit e la posizioniamo in questo modo inseriamo la fascetta qui dentro e la stringiamo dopo di che accorciamo la fascetta adesso prendiamo il tubo che troviamo in dotazione nel kit e colleghiamo una delle due estremità al raccordo in questo modo qui adesso stendiamo il tubo lungo lo schienale e lo fissiamo con la fascetta in dotazione quindi svitiamo questa vite inseriamo la fascetta in questo modo puntiamo la vite e la riavitiamo la fascetta che abbiamo appena avvitato in base al modello di asciugatrice potrebbe essere avvitata in qualche altro punto dell'asciugatrice ad esempio qui o qui o anche qui in basso questo dipende dal modello adesso non ci resta che collegare l'altra estremità del tubetto dove prima era collegata la lavatrice per fare ciò utilizzeremo questo raccordo che possiede al suo interno due valvole di non ritorno per far sì che l'acqua della lavatrice non vada a finire nell'asciugatrice viceversa come potete vedere è già predisposto con le sue guarnizioni quindi non ci resta che avvitarlo dopodiché scegliamo la posizione in questo caso lo mettiamo così e stringiamo quindi qui colleghiamo il tubetto dell'asciugatrice e qui ricolleghiamo il tubo di scarico della lavatrice dopodiché stringiamo ancora no 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 no